Carnevale 2023 ad Avola, la festa più divertente e colorata dell'anno, vivila con noi! Grandiosa sfilata di carri allegorici ed infiorati per le vie della città con musica e balli. Carnevale di Avola, un connubio di gioia, storia e tradizione. Martedì 21 febbraio a partire dalle ore 17, telecittà e online siracusa.it in collaborazione con Sesta Rete TV sul canale 81 del Digitale Terrestre per tutta la Sicilia trasmetteranno in diretta il Carnevale avolese 2023. Carnevale di Avola, da noi è una cosa seria!